Spostati un po' a sinistra che qua deve venire una persona, mettiamo questo signore qua giovane, lui ha già puntato un'altra quindi tempi già che ti trovi uno, se no si è arrovinati eh. Ma anche quando è per prendere il pandello, i bigliettini di più uguali, altre persone? Beh per farli partire sì, dovete cominciare voi, per mettere in moto il gioco, no scusa eh, comincia a scrivere. Ciao caro, vieni vieni, qua qua, qui, prego, qua qua, qui, vai. Allora, porta, sì, ragazzi vediamo se, adesso la metto, oh mi interrompono sempre. Allora, forse perché è quello? Sì, vediamo che è il primo che ha pedante ragazzi Paese mio che stai su una colina Esteso come un vecchio addormentato La noia l'abbandono Il niente solo la fa malattia Paese mio ti lascio e vado via Che sarà